Selciarolo, Campanaro, Capo X. In queste tre vesti è stato ricordato Vittorio Baldelli, in un incontro tenutosi nella sala conferenza della Scuola di Specializzazione e Beni Storico-Artistici del complesso di San Benedetto a Gubbio. Un'iniziativa patrocinata dal Comune di Gubbio e promossa dall'Università dei Muratori, dalla Compagnia dei Campanari e dal Centro di Documentazione e Studi sulla Festa di Ciri Adolfo Barbi, figura di riferimento della tradizione ceraiola, cepparolo e batoccolaro dal 1959 al 1984, Capo X di Brocca, del Ciro di Sant'Ubaldo, il 15 maggio 1964, a vent'anni dalla scomparsa è stato ricordato da quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Ci siamo ritrovati a vent'anni dalla morte di Vittorio Baldelli a parlare della sua vita, della sua vita di persona che ha fatto un mestiere dentro la città come Selciarolo, ha suonato il campanone, ha fatto il capogliese del Ciro di Sant'Ubaldo, perché questo patrimonio risuonasse ancora in mezzo a noi attraverso i racconti, le testimonianze delle persone che lo hanno conosciuto. Ci rendiamo conto che era una persona di valore, di spessore, aveva una grande forza fisica, una grande forza morale e quello che ha vissuto ancora riesce a parlare a chi l'ha conosciuto, ma anche ad altri che magari non l'hanno mai visto. Allora siamo stati contenti, grazie al figlio Giovanni, di aver toccato questi tre aspetti della vita di Vittorio e di aver raccolto le testimonianze di tante persone che hanno partecipato e hanno condiviso quello che hanno vissuto con lui. È stata una serata importante e anche arricchente per tutti, credo. L'incontro è stato il primo di una serie di appuntamenti dal titolo Vite Ceraiole, in cui verranno ricordati altri ceraioli, muratori e campanari.